se anche voi vi ponete di tanto in tanto la domanda cosa ci sia di così bello nel dare la mano a Elia e quindi far parte del suo staff beh la parte più bella del mio lavoro è questa la parte più brutta del mio lavoro è questa la salita e la discesa con tutta la il chat